Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Darius Camille 2 Diamond Siamo top contro... siamo contro Renechion Quindi... io starterei di Lama di Doran Proviamo Proviamo, proviamo, proviamo Dobbiamo dare il... Il pull a Twitch Speriamo a D-Nord che non ci invada Sanno da qua, tipo Boh, allora Aspetta, aspetta Devo dire a Twitch Twitch Nightless Perché deve essere attento alla mia passiva Se no, ovviamente Care about My passiva Se no, sai quante volte l'ho stillato Tante I need you Lost it Need it Basta Quindi, ragazzi Che mi dite Io vi dico Siamo in promo Per il gold Con una vittoria E basta E basta Nient'altro Abbiamo una vittoria e basta Ce ne andiamo Perché se no Il... Il... L'emorragia continua Quindi Meglio di no Lui anche C'ha La Donna's Blade Va bene I Nirli I trade Li vinciamo noi Soprattutto se lui Usa l'acqua A cazzo Lui ha pushato Ma se non ci prende con la Q Vinceremo sempre Ecco quella che si rifulla Così Boom proprio Boom ragazzi Così me lo dici Dunque avevo registrato anche il game di prima Poi al fine game Mi sono accorto che Avevo registrato a schermo nero Quindi Ok Bene Faccio un altro Non importa Ah Che Volevi trade No ho capito Vabbè Eh 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 C'è un amichetto però Andiamo soli Mi hai mentito Hai detto che eravamo soli Bene Va bene Non importa Pinghiamo che è top Sperando Che si capisca Kazix Kazix Becchi il potential Su di noi Perché Fa un sacco di danni Siamo isolati Nella top ovviamente Siamo da soli Ho preso il carretto E che volevi Che volevi Allora attacchiamo il minion Perché La stiliamo Quindi È buono Guarda quanto me ne pullo Boom E me ne pullo pure così E intanto Boom Ah ma c'è il Colossus lui È una pussere Vabbè vabbè Non importa Intanto Abbiamo frizzato La wave Sì ho fatto male Di ingaggiare lì Perché c'erano tutti i suoi minion Però Si cazzo Ce le pulliamo adesso E comunque Anche lui ha preso Un bel po' Di pizzette Aia Mi è stato Scusa Scusa Non ho capito Ah questo lo mi perdo Vabbè Probabilmente Sarà Kazix Qua No Non c'è Kazix Dobbiamo stare attenti Perché ci salta Addosso E ci sciotta Quello Non è il Thunderlord Quindi Un po' di burst L'ha perso Per questo Vorrei il carretto Però Grazie Eh È stato bravo È stato bravo Non diamogli kill A free Prendiamo l'exp Anche perché non ho il grab Quindi Devo stare attento Lui si era fullato Porca troia C'è fin di andare All'assittare Invece Anche perché non c'era niente All'assittare Quindi Qua Prendiamo i minion Questi qua Ce li fermiamo Belli belli Andiamo di fare Una Q No Niente Ed è morto Va bene Va bene Ce la siamo Giocata bene Speriamo che non arrivi Gazzix Che sto senza male Senza niente Lui mi pare Non abbia neanche Flashato Se non sbaglio Ci prendiamo Questo Questo E questo E Tipiamo Tipiamo qua Ma sì Ma che cazzo Ce ne fotte Non so Che cosa stia facendo F top Perché io ho la ult E lui No Ora ce l'ha Cioè non so perché mi abbia trittato Sinceramente Comunque non ha il flash Mettiamo una bella Control qua Mettiamo un'altra word qua A posto La bot sta facendo bene Vabbè non ha preso le kill Draven Però Unlucky L'ha presa a bard Noi lo zoniamo Ci mettiamo qua Lui non può farmare Ora Perderà un po' di minion Se viene all'assittare questo Lo punisco severamente Anche se l'assitta quest'altro Prima Ha zonato lui Ora Lo zono io Però io comunque ho Più farm di lui Chissà perché Che sono forte Vero? Vero ragazzi Sei forte Nei commenti Perché se no Ditemi offendo tantissimo E Ziggs sta bot E Ziggs è fiddato Questa è una cosa negativa Ah peccato Peccato Non l'ho preso Con l'acqua Ho preso solo Con il manico Vabbè Sappiamo che Ziggs sta a bot Quindi possiamo stare qui Non mettiamo le pozioni Solo l'uno Io No Volevo push Farnculo Ho sbagliato Perché sotto torre Non mi sembra molto Abile Il ragazzo Va bene Va bene Va bene Dai dai La stritta quello Eh Si è cagato sotto Eh va bene Dai Succede Non mi importa Dai Va bene Va bene Che Ziggs Sta mid Noi non abbiamo mana Non abbiamo mana Per ultare Se facciamo Grab Base W Quindi Non ha senso Usiamo la pozza Viene Andrà in base No Non va in base Ora che Ziggs Potrebbe venire top Quindi Siamo attenti Quindi Non pushiamo più Ma ci facciamo pushare Si ora La solo wave push Eh Però Non pensavo Venisse tutta la banda Eh Amico mio Non pensavo Eh Ho sbagliato Ho sbagliato Non pensavo Venisse pure Ecco Eppure Mi stava Mid Perché Non sarebbe Voluto Venire Io faccio Però Questo Perché Contro Ziggs Eh Good E mi servono Anche le scarpette Quindi Aspettiamo Un attimo Qualche Secondo Ok Ci siamo Dovrebbe prendere La torre E invece E invece Mi sa che prende La torre Porca Troia Una volta Hanno pushato Una volta E neanche Sono rimasti Tutti e tre E ha preso La torre What the fuck I don't know Non lo so Veramente Vabbè Guarda Guarda Il minion block Holy shit Che odio Sto cosa Vabbè Io vi vado addosso Mi frega poco Kazix Sta mid No E pussy Va indietro Quindi Lui Recollerà Perché Se va indietro Mi dica Andate indietro Perché c'è la paura Di Di chissà cosa Avrà Recollato Sì Sì Quindi La pushiamo Così facciamo Sprecare il tp Cioè Sprecare Usare E qui però Ora siamo fuori posizione Perché non c'è più La cazzo di torre Ma io non so Come cazzo L'hanno fatto A prendere la torre Così velocemente Boh Vabbè Sarà Eh aiuto Che Amico mio Ma non ha dato il blu No Io sono free killer Kazix Kazix e Renekton Free killer Proprio Perché non vedo Kazix Cioè In realtà Mi killa anche qui Non so cosa Che zix Dove azzostare Zix Boh Non lo so Facciamo questo Qua Base Ulti E dovrebbe essere Morto In teoria Boh F Renek Cercato di fargli Più attacchi Base Possibili Però No Evidentemente No Si sarà salvato Con un culo di vita Come sempre No Lui non ha il tp Però Quindi Kinda Good Eh Cerchiamo di Prendere la torre Kazix Aveva appena fatto il drago Quindi Possiamo Fare un po' di danno Alla torre Però Non ho mana Holy Fuck Devo andare via Subito Andare via Devo andare via Però no Mi servono Mi servono 50 gold Vabbè Mi chiudo le scarpette No Neanche Non posso Vabbè Andiamo queste È l'unica Non posso Prendere niente Soraka Soraka Tristana Late Beh noi siamo forti In late Perché c'è Draven Twitch Orianna Però anche loro Tristana Renekton no Cala tantissimo Renekton è da Early E l'Hearly Diciamo che l'ha perso Ebbè È morto 1v1 Io non posso stare top Arriva che Ziggs Che ho fiddato Giuppi Mi shotta Prende a difendere La mid Ah Ha flashato Pensavo C'è Sela Lasciamo L'ex Se ci riusciamo No L'abbiamo preso un po' Vabbè Non mi importa Fa ingaggia No Io potrei anche Andare di qua No No Andiamo qua Andiamo qua What No Non l'ho preso Di pochissimo A volte è shotta Sto attento Orenna ha flashato Lol Sul posto Vai Ci prendiamo qua Che palle Quello Toccava per forza Eh vabbè Che devo fare io Però andate via Vado via io E morite Che cosa sta facendo Questo Aspetta Mo arrivo Mo arrivo Mo arrivo Sì 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 Tutto quello Che ti pare Dai su Attendo Mo si resetta L'ex Per il cannone Yo Madafaka Bravo bravo Dai Fa la retta Di nuovo Posto Cosa sta facendo Non si sa Vorrebbe Prendere il blu Ma indecisi Cioè Boh Non lo so Quindi Ti ho una shotta No invece no Col Thunderlord Perde tantissimo Renekton Eh sì Col Thunderlord Col Colossus Perché non ha Il Thunderlord Perde tanto Il bus Damage Col Thunderlord Secondo me L'avrebbe Shottato Guarda Tristana No Non hanno visto I minion Guarda Soraka Bella 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 Bardo Vabbè Vabbè Lascia Draven Dai Questa Non ha W JK Ce l'aveva Pensavo Non ce l'avesse Dai Facciamo Sta cazzo Di torre Monce Là però Sono pronto Il dito Sul flash Ma no Non lo farò Ma è meglio La torre Ha doppia Vuato Via Lo stun Di ecco Qui Ci prendeva Tutti Vabbè Quello Che devo fare Ragazzi Purtroppo La gente Anche così Facciamo Questo E Questo Va E Renekton Split Pusher Ma per caso L'ha fatto Velocità D'attacco Perché Capirebbero Molte cose No eh Madonna Mia Comunque Boh Conviene Tanto Split Push Secondo me Sta facendo Bene Renekton Cerchiamo Di salvare Quello Bello Purtroppo Purtroppo Non ce l'ho fatta A flash Per fargli Per stoppargli La Q Cioè Stoppargli La E In realtà Però Non ce l'ho fatta Io Velo solo Difendere la torre Non c'è Non c'è il flash Tu Tu non hai il flash Sì Sì però Amici miei Eh Io Quando vi pare Eh Però Fate qualcosa Ma la torre L'abbiamo presa Andiamo top No Se no Non la prenderò mai La torre Quello sta sempre La Ma ci abbiamo pure La ult Troppo Pochissimo Quindi Ce lo possiamo Killare Sì 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 Ce lo killiamo Oh yeah Ce lo killiamo Cioè Se ci viene addosso Ovviamente Se no è pussy Cioè Se non è pussy Ottimo Sto drago Della montagna Quando mi piace Il drago Della montagna Quanto Ma Piazza C'è HZX No Non c'è HZX Va via Va via Perché Ho capito Che Eh no Perché tippa Ecco Perché Io non ho il tp Ma Per questa cosa Secondo me Perdono più di quello Che guadagnano Prenderanno Le kill Però Io qua Prendo la torre Sicuro Con il mountain A me Non interessa Io prendo la torre Così E rendo Non worth Quello che hanno fatto Eh Però Dovete smetterla Di morire Eh beh Unlucky Quale ho ultato What Do sta Che zix Figlio di puttana Figlio di puttana Mi fa un botto Di danni Va pure invisibile Non posso andare Invisibile Forse Vabbè Io ovviamente Ho sbagliato io Però Sti cazzi Era ovvio E ci fosse Dove 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 Reconna E basta Eh già Renekton Man mano che va avanti il gioco Il game Cala sempre di più Quindi A noi va bene così Sipra Tristana Non può prendere la torre Vabbè Vabbè Sei andata Non è che Non è che Stanno i baron Boh Io per Per Sicurezza Per curiosità So a dire Eccalla Lo sapevo Cos'è quella ultima No Vaffanculo Sì vabbè Ma Ma prendi Soraga No Siamo morti tutti Ok Va bene Abbiamo perso Che bel game Quando fidano Che ha zix Che bel game Vabbè ragazzi Spero il video Vi sia piaciuto Anche se È un game Di merda Effettivamente Siamo in promo Un auditorio Una sconfitta E Lasciate un like Se il video vi è piaciuto E ci vediamo alla prossima Bella Ma cazzo Se spegne Ma sto cosa Mese Ma cazzo Grazie.